D'accordo, vai a casa, io... C'è riesco adesso? C'è di presto? È almeno... è a trapìa, perché sto... Ti vengo a te... Tu ozzi, io vengo a te... Ti vengo a te... Ti vengo a te... D'accordo... Edo, Ludo... Te vengo a te... Non soppi... Non soppi... Guarda, 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 guarda... Stiamo qui dietro... Siamo online... E' sul canale... Ecco... Facciamo da un caso... Facciamo da un caso... Facciamo da un caso... Facciamo da un caso... Io non penso male... Io non penso male... No... Facciamo da un caso... Facciamo da un caso... Va a fare... Ok... Eyy... Facciamo da un caso... Apece... Curaccio... Quindi qui taff philippo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 ci siamo. a tutti. a tutti. a tutti. A tutti. guarda che è impazzesco guarda che è un gioco 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 Grazie a tutti. 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 ooooh! Grazie a tutti. Sì, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Sì, non so, non so. Sì, non so, non so, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so. Ma non si trattiamo, non si può fare mai troppo presto. Non sono lì, non è finita ciò. Sì, è vero! E' il centro! E' un'altra cazzo! E' il dito, il geresto! Non è come il geresto di! Buono, buono! Buono, buono! Buono, buono! Il coach va da così! E' il gioco! 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 E' il gioco, buono! E' un po' bassa, è un po' bassa. Grazie a tutti. Non so ne siamo più schiati. La diciano che quant'è che la vinta? La diciano che quant'è che la vinta? E' una cosa che fa Quanto hai pagato? Mi ha dato che mi ha dato che avevo il dry Mi ha dato che avevo il dry Mi ha dato che avevo il dry Sì, 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 sì. Sì, si sono scontrati loro due. 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 Contro. Quanto è finita? Quanto è finita? Quindi chi ha il divone? Ah, il gatto del soio, non l'ho specificato. E non l'hai specificato. Oh Dio! E non l'hai specificato? Non l'hai specificato, non l'hai specificato. Non l'hai specificato, non l'hai specificato. Lui ha paia di scarpe e va ancora bene. E' andato con la ragazza. E' un'altra ragazza. Quattro a faglio, non c'è una faglia. Non c'era una faglia, non c'era una faglia. Non ci casca, io. Va bene, buon non fischio, buon non fischio. Va bene, va bene. Niente mauto di buona cara, non senti la cara insieme. Buon non fischio, buon non fischio, bravi. Buon non fischio, buon non fischio, bravi. ancora non fischio, bravi. Non fischio, bravi. Non chi face, buon non fischio. Sp commune. Behvard un Records 1800s Sp dannissimo alle kamenasi au fischio. ma chi dal suo tecnico? si 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 lascia andare ahahah 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 c'è l'ordinatore che ha il telefono in pagina vai sei due no due due oh vabbè a questo qua era assurdo questo qua mi stanno chattando mentre tu tu guarda non guarda la prima partita non guarda la prima partita lui però c'è un grande però è un grande mi rispetto per lui non guarda la prima partita non guarda la prima partita è un grande giusto è stata per la prima partita e va a perdere la prima partita Quattro secondi, quattro secondi, Félix. Quattro secondi, quattro secondi, i tuoi e i tuoi amicai. Vi a Félix altri, fa tutto quello che vuole. La Félix, la Félix. Quando c'è il sigma dei campi, non c'è anche un po' di avvicinamento. No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie.